È utile andare a teatro, primo. C'è una storia che li riguarda sulla contemporaneità, molti di loro cercano questo tipo di coerenza, però letta in forma poetica. Perché raccontano le donne? Beh, intanto la madre e la moglie di Camillo raccontano perché delle donne si sa poco, ma sono state importanti nelle storie anche prima che arrivassero le meravigliose suffragette un po' coeve di Camillo. Coeve di Camillo, ma di loro non si racconta mai nulla e sono state molto importanti per questa storia. E poi raccontano perché dovevano raccontare gli altri, altrimenti non avrei potuto raccontare i difetti, e tanti ne aveva, le intemperanze, i capricci, la genialità disordinata di Camillo, perché lui di sé non avrebbe mai detto male. E quindi il fatto di farle parlare la madre e la moglie mi ha permesso di guardarla con uno sguardo da una parte più imparziale, se è possibile, dall'altra però anche più affettuoso, più sensuale, più poetico.